Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video e andiamo a rispondere di nuovo perché il Almalarariti Cacchio se me l'avete chiesto, cacchio se me l'avete chiesto e andiamo a rispondere Chiedo scusa se magari ci stiamo soffermando un pochino troppo su questo set però almeno oggi andiamo a fare proprio Chiamiamolo anche recap Ultima parola prima che esca perché manca veramente una settimana a meno che non escano gli opening Col culo che abbiamo in realtà dopo che abbiamo fatto questo video potrebbe riuscire il giorno stesso che pubblico questo video Quindi di solito accade così quindi speriamo che sia un porta fortuna però fondamentalmente diciamo che questo è un video un po' che chiude Finché non escono le carte, finché non esce il set che andremo ad aprire Sfortunatamente non riusciremo ad aprire il box ai primi giorni quando uscirà Però almeno qualche tack box sono riuscito a portarlo a casa Vedete che i tack box sono utili se non riusciamo a prendere il box quindi quelli là ve li consiglio assolutamente Prima di iniziare come sempre vi consiglio anche di iscrivervi al nostro canale prima di essere sempre aggiornati E me la comando importantissimo ci aiuta tantissimo E il link è fantastico che sarà in descrizione per preordinare il set passando tramite il link affiliato Aiuterete il canale ed è grazie a voi che riusciamo a portare tutti gli opening che in tempo diciamo Detto questo al Rarity Collection perché non escono gli opening? Boh Raga boh io non lo so Oggettivamente non lo so perché fondamentalmente io non conto un caso No però allora non lo so perché non escono Forse perché vogliono far arrivare l'hype a livelli alti o forse perché si aspettano ancora Che non lo so in realtà che cosa stanno aspettando Magari usciranno poco prima nella fine di ottobre tipo 28-29 Perché il set comunque esce il 3, il 2-3 Quindi non si sa bene Dovrebbero uscire a momenti in realtà Quindi un po' di pazienza che manca letteralmente una settimana anche di me dall'uscita della Rarity Quindi ok Poi per le carte confermate abbiamo Ash Blossom di Beiru Abyss Dragon Eldritch Con l'artwork alternativa che praticamente è quella dell'edizione Gold Eh questa qui Borelo The Jeep Tango Slime Che era una carta che un sacco volevano Droplet La Prosperity Impermanence Veiler Poi abbiamo Darklo Il Barone Redwer Unicorno Anche Unicorno ha l'artwork alternativa della Gold Editions Poi abbiamo Talento Tattiche Triple E abbiamo Heavenly Match Per chiudere il Le carte confermate che possono tutte essere trovate come Superare Ultralare Secret Platinum Secret Rare Carter Century Ultimate Collector Ora 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 Le carte Che possono essere incluse Noi abbiamo fatto una teoria in base anche al numero delle carte che sono state posizionate Che è praticamente uguale a quello della Grarity Carter Che usci in Giappone ad eccezione che alcune sballano di uno perché appunto da noi non c'è Max e C E scalano tutte quante E anche lì le carte ovviamente confermano la loro posizione Dato che comunque questo venticinquesimo anniversario Prende spunto leggermente da questo Io credo che le carte che possano uscire dalla nostra Rarity siano effettivamente queste Come il Lava Golem, il Blossom, il Viler, Faris, il Max C Tolta Underwood, l'Ancea, la Palla di Rana, Ash e tutte queste qua Il Border, il Nibiru, il Dimension Shifter, Galaxy, l'Albaz, l'Alpha Eintz E poi la Pianta Modragon, Altico Dragofotato, l'Araldo, Junk Speeder Boh, non l'abbiamo tanto confermato Abbiamo tutti gli Xyz, Dengirsu, Ekerubini, Avramax Striker Dragon, Selene Poi le carte magie sono praticamente il mantra Perché c'è praticamente di tutto e di più C'è l'Annie Storm C'è la Prosperity, l'Extravagance Magicalized Fusion La Desires Tutto ragionando Poi abbiamo anche in Permanence Abbiamo Dimensional Barrier Ice Barrier Ice Dragon Prison Insomma Dogmatica Punishment Heavenly Praticamente questo potenzialmente potrebbe essere Praticamente tutto il set Che riguarda anche la nostra Rarity Collection Ripeto, gli opening non so quando li porteranno Dato che abbiamo fatto questo video Molto probabilmente li porteranno oggi Oggi pomeriggio Comunque noi saremo in prima fila Tra l'altro Stiamo arrivando a fine ottobre Quindi Diciamo che sto già preparando Il prossimo mese Con i video Quindi Mi spero di riuscire a portare un po' di roba su cosa Perché sto cercando di prendere anche delle cosine particolari Purtroppo le edicole non ci hanno più un cavolo E volevo portare un opening da l'edicola Tecnico-tattico Ma purtroppo non riesco a trovare un piffero Stiamo cercando di portare anche altre deck profile E tutto il resto Quindi Spero che vada bene In ottobre è stato un mese che mi ha preso un po' calci nel culo Però Metaforicamente parlando Ma anche fisicamente ormai Però insomma speriamo di Ripartire bene Perché sapete Un giorno va bene Un giorno va male Un giorno va bene Due giorni vanno male Quindi speriamo Insomma E comunque io spero di aver risposto a questo Ma la rarity La rarity Bisognerà aspettare ragazzi E questo è Detto questo ragazzi Fatemi sapere voi cosa pensare ovviamente Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video E un saluto a tutti